Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori al momento ci sono rallentamenti tra la Strassigna e il Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!